Ciao a tutti ragazzi, io sono Nino e benvenuti in questo nuovissimo video del gioco che abbiamo provato poco tempo fa, si chiama Paper.io3d e oggi giocheremo di nuovo, vi avevo promesso la seconda parte e anche che poteva diventare una serie e quindi riproveremo. Allora, dobbiamo vincere assolutamente, perché sennò io mi arrabbio, comunque un po' penso di essere migliorato, penso, poi mi giudiccherete voi nei commenti. Bene, cominciamo male. Ok, morì. Cosa voleva fare? Cosa voleva fare? Eh? Eh? Cosa volevate fare, maledetti? Non volete fare niente? Ok, dai, 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 dobbiamo vincere, dobbiamo vincere, dobbiamo vincere. Questo fenicottero, quel che cavolo è, non è molto. Quello si è uscito da solo. Ha detto, beh, no, non ci posso credere, eravamo al 10%. Vabbè. Allora, 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 allora. Vediamoci. Mamma mia, ragazze. Cosa penso di fare questo qua? Non so neanche cosa sia un fenicottero, boh. Un'orchidea. No, ragazzo, facendo il devasto. 5 kill. Il devasto. 5 kill al 20%, cioè, il devasto, boh, boh, oddio, 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 no, raga. Raga, non ci posso credere, raga. Ok, ok, ok. Allora, raga, dobbiamo assolutamente vincere. E legge, legge. Io dico che dobbiamo vincere. E quindi quello ho visto morire. Ho visto morire all'uno. Mi dispiace per lui. No! Ok, dai, raga. L'abbiamo perso, però noi non ci rientriamo. Continuiamo e continuiamo. Continuiamo con il nostro pinguino. Che pinguino non è mai un delfino, però facciamo quinta che sia un pinguino. E continuiamo. Andiamo, 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 andiamo a lavorare. Continuiamo dritto, sempre dritto per dritto. Oddio, raga, consigliatemi un modo per completare le isole. No. Ok, 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 ok. Ci siamo quasi. Qua, 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 qua. Quaquini, quaquarini, quaquarelli, quaquarelli. Qua quaquarellini, quaquarelloni, quaquarellucci, quaquarellozzi. Madonna ma questo sta costruendo un cimitero, no? Poverino. Ma cos'è? E adesso muori. Costruire un cimitero? A casa mia non si costruisce quei cimiteri. Sì raga, so che la stanno invadendo a casa mia però... Che ci possiamo fare? Noi aspettiamo il momento giusto come ho fatto con questo e lo ammazziamo. Anche questo. E anche questo. E anche questo. No, chi c'ha bo... Vabbè. Ok dai, ricominciamo. Che noia però, che barba, che barba, conti a morire. Mamma mia, un cantante. Un cantante. Vabbè ragazzi, abbiamo fatto tanto. E vabbè, ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!